L'Udc riparte da Cortona. Al Teatro Signorelli incontro con l'On. Lorenzo Cesa e la candidata alle europee Matilde Tasselli. Discussi i punti programmatici per le prossime elezioni. Qual è il punto che le sta più a cuore? Ha come agricoltura, quindi noi dobbiamo riappropriarci della nostra terra e dobbiamo fare in modo che l'agricoltura non sia penalizzata da delle direttive europee che vorrebbe tenere i nostri terreni incolti. Noi vogliamo che i nostri terreni vengano valorizzati, che gli agricoltori abbiano valore, abbiano delle prospettive importanti, abbiano la possibilità di vivere della propria terra, che è un valore inestimabile per noi di Udc, è un valore fondamentale, perché è la terra che ci porta la vita, ci porta qualcosa di grande.